Al via il tavolo regionale per la diffusione della cultura della donazione degli organi. La Puglia ha la maglia nera in Italia per l'alto numero di opposizioni, il 44% solo 6 donatori per ogni 1000 abitanti, la metà rispetto alla media italiana. Il tutto in un quadro di liste d'attesa spaventose, 800 idealizzati che attendono un rene sano e nel frattempo si sottopongono a costose cure quotidiane a spese del sistema sanitario. Di qui l'esigenza di un piano di intervento ad hoc avviato dal centro regionale per le donazioni attraverso un protocollo con l'assessorato alla salute. Il protocollo non farà altro che realizzare in tutti i 258 comuni pugliesi una serie di riunioni rivolte alla diffusione della cultura della donazione, quindi il colloquio con la popolazione per risolvere il problema che cos'è la morte cerebrale e che si può anche donare agli organi. Obiettivo superare la cultura del rifiuto al trapianto, una mentalità legata alla sacralità del corpo del defunto. Se saremo in grado di comunicare che attraverso questa decisione e questo atto si consente ad una vita che sta per spegnersi di riprendere il volo, noi certamente riusciremo a fare di più e meglio.